Ma vorrei scusa, è morto da parmigena! Cosa cazzo siete a rire? C'è il complesso vostro oggi? Io non volevo venire, volevo farlo a chi mi bagna. I anni da me, da sedecenni, andavano a farvi vedere come si faceva un rispetto in i cazzo. Io non vi mettete in vergogna, che a te vostro non si potete fare neanche un rispetto in i cazzo. Vi mettete a vedere tutti questi programmi di cucina. Non si potete fare neanche cozzo la poveretta. Neanche un beneficazio, se tu capisci. Facete schifo, facete schifo, ma facete schifo. Invece di farvi i selfie, mettetele su Instagram o Facebook. Berete a cucina, berete a fare i meme. Io mi avrei messo scritto a vergogna. A come cazzo fesciut! Come apre Facebook a mattina, non vedo altro che sezzi i cugli di milf. Io penso che mi avrete la frutta. I social non sono tutto questo, davvero. E se però avete reale. Allora, come cazzo? A me e te la vostra. Non vedo. Boh. Ma buca sono una massa di cornottere per loro. Cornite con dente. Io mi ricordo che mio nonno, da l'arte di Cinghen, che mi aveva cominciato a vedere come si faccia i minchi a ridere. I cartelletti. Ma in segnità come si chiedono i panzerotti. Come si fanno fai cazzo. Chi se ne ze bane fremenge, o pas t'ku burrë mu Manzi njita fan grapiet Voi usapit e s'ha jo angrapiet Non, ne nusapit Kapisht e shkete a shaman gjo ristorand Usush, kide putenit e dekan usht Je vast Fan guleve Ehi tu, ancora non hai messo mi piace alla mia pagina? Lo so, può capitare di fare cazzate La vera domanda è, che cosa stai aspettando? Seguimi anche su Instagram Il vostro Sapoz lavora sempre per voi